Iniziamo le danze Iniziamo le danze di questo premio 8 milioni e appunto io ti chiedevo quanto tempo ha fallito perché so che è anche un cimelio tu 8 milioni è nato 20 anni fa abbiamo fatto un'undicesima edizione questo qua è il cappellino della prima premiazione quando incominciavo lo dedicavamo a un ischitario Agostino Lauro che è stato proprio il paladino l'iniziatore degli asfolti pubblici sul mio figlio Salvatore Lauro, senatore, amico mio già quando facevo le associazioni prima si chiamava Cassi associazioni studenti di ischitario quindi lui partecipava ha deciso all'epoca di sponsorizzarlo e quindi dedicarlo al padre e lui l'aveva fatto quindi la sponsorizzazione non ci siamo nel fatto che lui pagava 5 mila copri del tutto quindi ne abbiamo stampati 5 mila copri in gratuita lettura sono tutti in navigazione la plotta l'audio e navigazione del Mediterraneo 8 milioni di video ecco ecco quello adesso abbiamo fatto i 12 anni adesso prendo il 12esimo anno ci vuole qualche volontario venga con me vi faccio vedere come può continuare questa storia vedete questo è il cappellino adesso con questo cappellino noi premeremo nel 12esimo inizio bene quindi ci sarà una specie di investitura di ognuno col cappellino noi abbiamo fatto questa proposta io sono stato ben lieto di raccontarvi l'associazione come dicevo è legalmente costituita quindi si può organizzare fino ad oggi non abbiamo mai come tutti i quali se lo sapete se noi facciamo un testamento anche minimo noi lo rendiamo tutti quanti il diritto di voto abbiamo l'assemblea facciamo tutti quegli ordini così l'ho fatto sempre io ho fatto il padrone senza problemi comunque tu me l'hai autorizzato tu me l'hai autorizzato all'altra che lo facevo per tutti noi però se lo strutturiamo in una maniera diciamo legale e organizzato in maniera giusta possiamo continuare a continuare a continuare penso che la voce ci siamo tutti troveremo il modo per verificare come proseguire ma questo è il programma ecco la volontà di tutti credo che sia appunto la volontà di tutti abbiamo Angela che è vicepresidente eh sì sei tu che fai parte del concilio direttivo però tu sei che fai parte del concilio direttivo perché io senza del senamento facciamo il concilio di fuori io la sento certo ecco io non faccio una parte no no tu che sei parte no no tu che sei parte sei parte sei parte sei parte ma voglio chiarire questo discorso che sto prendendo non è per acquisire un numero maggiore di adesioni o qualsiasi cosa ma è semplicemente per continuare questa storia questa storia che io ho creato un minuto e mezzo di tutti i dati non ho creato non la voglio tutta non la voglio tutta non la voglio tutta non la voglio tutta però vorrei che continui con delle cose più giovani più molte io vado da 380 quindi sono ancora non ci crede nessuno però non ci crede nessuno 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 ma guarda sicuramente io per quanto mi riguarda adesso metto a disposizione tutto quello che posso e credo tutti voi bene adesso vogliamo giocare un po' giochiamo un po' grazie yo io Grazie a tutti.